Jan Zimmerman, ultima regular season, grande prova, gran bella prestazione, quanto siete felici? Adesso, indipendentemente da chi ci sarà nei play-off, quanto era importante giocare una pallavolo del genere? Secondo me abbiamo giocato molto bene, era importante per noi di prendere ritmo anche per i play-off. Dopo la partita che abbiamo perso anche a Siena, volevamo vincere questa partita per forza. Secondo me abbiamo giocato molto bene e sono contento della presentazione che abbiamo fatto. Dal puntista tecnico, come ti è piaciuto di più stasera? Secondo me abbiamo giocato bene come squadra, quella è la cosa più importante. Georg ha giocato bene, anche Steve, Vlad, secondo me anche Gala e Tommy, è una presentazione di squadra, non importa chi ha giocato un po' meglio o un po' peggio. Dal puntista tecnico, invece, dei fondamentali, servizio, battuta, avete fatto un gran lavoro a muro e merito anche della battuta e anche delle tue battute. Sì, credo che abbiamo fatto molto bene la fase break, siamo forti questa stagione in quell'elemento, quindi abbiamo tenuto il nostro livello e magari abbiamo fatto anche un po' meglio. Grazie mille, complimenti.